La mia mente è la più grande arma che ho a disposizione, Tiger Woods. Perché questa frase? Perché sono appena rientrato da Miami e ho avuto l'onore lì di lavorare con il maestro di golf Brando Tommasi e con Paula Reto, una golfista di altissimo livello. E l'aspetto interessante è che prima di lavorare con me lei già aveva delle strategie per gestire il suo stato d'animo, il suo focus per gestire il suo livello motivazionale, per gestire il suo livello di attivazione psicofisiologica, però era interessata a migliorarle. Allora se un atleta dell'IT è interessato ad evolvere costantemente le proprie strategie per gestire il proprio stato d'animo, il proprio focus, il proprio livello motivazionale, la mia domanda è hai delle strategie efficaci? Che risultati ti stanno portando? E se non ti piacciono questi risultati, cosa aspetti ad acquisire nuove strategie? Se vuoi lavoriamoci insieme. A presto!